Buonasera a tutti, benvenuti a questo concerto, non portiamo via tanto tempo la musica, vi presento subito il primo brano che è molto molto conosciuto e è Il Tedeum di Marc-Antoine Charpentier. A voi tutti auguro buon ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.